Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre, questo è l'Andrea Di Pre per il sociale. Vi trovo a Roma, per l'esattezza sono dalle parti di Ostia, terra antica, terra gravida di storia. Ho da presentarvi una persona dove il massimo della chiarezza corrisponde al massimo dell'ambiguità, è una creatura anfibia nel senso che ha in sé tanti aspetti, straordinario o straordinaria. Con me, con Andrea Di Pre, qui per voi per raccontarsi c'è Rosario Muniz. Rosario è un grande piacere essere qui con te. Ciao Rosario, guarda sempre in telecamera il tuo pubblico del Di Pre per il sociale. Rosario, qual è la tua caratteristica principale? O meglio, che cosa ti rende così forte e distinta? Io ho scoperto da poco che ho la fica nel culo, prima non lo sapevo, l'ho scoperto da poco. Insomma, mi piace questa cosa. Vado pazzo per questa cosa. Ho la fica nel culo. Mi piace scorreggiare sulle cappelle. Ma che cosa significa esattamente questo? Cioè, che cosa intendi per questa... Mi piace scorreggiare sulle cappelle quando mi inculano, quando vado nei barchi all'aperto. Mi diverto a farmi scorreggiare sulle cappelle, scorreggio io sulle cappelle. Però non ci sono più gli uomini di una volta. Prima scorreggiavo sulle cappelle più frequentemente, adesso invece non ci sono più gli uomini di una volta. E' veramente un dramma. Vado al parco, ce ne sono il meno possibile. Questo veramente c'è da... Dobbiamo... E' un dramma, è un dramma. Perché spesso nel parco si incontrano dei maniaci. Si, si incontrano dei maniaci, ma ormai se ne incontrano sempre meno. Vorrei che ce ne fossero di più. Di maniaci? Si. Perché comunque è una categoria che a te piace. Sì, è una categoria, sì. Allora, Rosario, brevemente. So che tu, cioè qui a Di Preperi Sociale, vuoi dire che ti senti un po' la reincarnazione di una grande star del cinema. Di chi in particolare? Sì, mi sento una grande star del cinema che è Moana Pozzi. Da poco tempo, da poco tempo, da pochissimo tempo, una notte, insomma, ho sentito, diciamo, la voce di Moana Pozzi. L'ho pure sognata, mi ha parlato in sogno. La reincarnazione di Moana Pozzi. E io non potevo credere, non potevo credere, insomma, è possibile. Intanto è così, insomma, devo rassegnarmi ad essere la reincarnazione di Moana Pozzi. Allora, intanto, subito, per scaldare un po' i motori, Rosario Muniz, rivolgi pure il tuo appello al pubblico. Cioè, tu stai cercando che cosa, esattamente? Dei maschi, giusto? Sì, sto cercando. Rivolgi il tuo appello, magari utilizza anche le tue musiche, le tue melodie tipiche per attirare, per attizzare. L'appello è che voglio più maniaci sessuali. Voglio scorreggiare sulle cappelle. Ecco, perché è il tuo spazio, dillo proprio con forza. Voglio, io voglio questo, voglio la mazza, il cazzo, si può dire in diretta. Voglio maschioni, stalloni, voglio scopare, voglio avere un orgasmo dopo l'altro, 30 orgasmi in uno. Ora, Rosario, ascolta, tu sei, a parte che sei eccezionale anche nella tua sicurezza catartica nel raccontarti, nel descrivere, però so anche che sei, hai un, cioè, di grande impatto, di grande impulso. Quindi, a di pre, per aiutare, non ci sono limiti. Dillo proprio con forza, dillo proprio quello che cerchi, perché devono capire che per te è un'urgenza, è un dramma, è una necessità. Sì, voglio i maschi, voglio essere inculato a sanque, non solo nei parchi, dappertutto, voglio questi maschi perché non ce ne sono più. Allora, maschi, fatevi trovare, fatevi trovare da me, ne voglio 20, 30 al giorno, anche 60, 100, perché non se ne può. Lo vuoi davvero questo? Sì, lo voglio, lo voglio proprio da impazzire, lo voglio, non posso, cioè, è peggio di un infomane. Allora, fra poco, dopo i consigli per gli acquisti, con Rosario Muniz, questo è l'andrea di pre, per il sociale. Di nuovo in onda di pre, per il sociale, Rosario Muniz, avete sentito l'appello, l'urgenza di questo grande personaggio, di questa ragazza seria, perché tu sei una ragazza, poi spiegheremo questo concetto. Rosario, il tuo appello qual è, in definitiva? Basta, io voglio, io voglio essere inculato dai maschioni perché non ce ne sono più, io ho la figa nel culo e vorrei che, insomma, vorrei sfruttarla al massimo, basta, non ce la faccio più, volete venire a stuprarmi, a violentarmi? Io non ce la faccio più, telefonatemi, citofonatemi, venite a casa mia, venite io, vi offro un caffè, poi vi offro a me stessa, vi offro la figa nel culo, ma vi prego, venite ad arrestarmi, anche i poliziotti, i carabinieri, i militari, vi prego, perché non ce la faccio più. Io non vivo più, non ci sono più gli uomini di una volta, una volta scopavo, 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 adesso invece scopo di meno, basta, dove sono questi uomini? Voglio essere stuprata a sangue, voglio essere stra-stuprata a sangue. Cioè, perché dovete capire che Rosario Muniz è una ragazza seria, cioè, perché? Perché seria? Seria perché sono una professionista, quindi una seria professionista e ci tengo, insomma, che ci sia più clientela possibile. Cosa diresti, Rosario Muniz, per, così, catturare un maschio? Cosa diresti, cosa gli dici? Immagina un maschio in telecamera che si sta guardando, che è l'indeciso, cosa diresti? Maschio, non essere timido, fatti avanti, fatti avanti, io ti aspetto qui, sono disperata, io ti sto aspettando, non andare nei parchi, vieni direttamente da me. In modo esplicito cosa dici, anche in modo diretto, proprio cosa guardi? Io ho la figa nel culo, voglio essere stuprata, voglio essere stuprata, cazzo, voglio essere stuprata, da te che mi stai seguendo. Cosa intendi per essere stuprata, cioè, cosa deve fare questo individuo per stuprarti? Deve mettermi a gamba all'aria, alla pecorina, in tutte le posizioni del Kama Sutra, crearne di nuove. Voglio uomini fantasiosi, maschioni, stalloni, con due mazze, tante, che ne so, 28 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza. Voglio mazze da baseball, però a me mi piace giocare a baseball, da piccolo ci giocavo, ci gioco anche da grande. Da quando avevo 11 anni che gioco a baseball, uso la mazza, sono stata precoce, sono stata precoce, lo so, e da quando avevo 11 anni, insomma, che prendo mazze, ne prendo ancora e spero di prenderne per i prossimi. La tua specialità, però, mi dicono dal pubblico, qual è esattamente? Fare i pompini, fare i pompini, anche quello, sbocchinare al massimo, appena mi metto, insomma, sbocchinare, parto in quarta, in quinta. Ma tu cosa fai, giri nei parchi, fai questo praticamente, nel parco, vedi un individuo? Sbocchinare al massimo, anche nei parchi, per i locali, insomma, dove ci sono, dove ci sono cazzi, stalloni, vado io. Il tuo soprannome è Stucchiapulli. Esatto, scusami, il tuo soprannome qual è? Il mio soprannome è Stucchiapulli. E cioè? Perché io i polli me li mangio, e li succhio, e li succhio pure bene. Ma i polli in che senso? Le galline, i polli? Stucchiocazzi. Mi piace stucchiare i cazzi, l'importante è che siano enormi. Rosario, io dico solo questo, complimenti per la tua trasparenza, per la tua immediatezza, penso che il tuo appello sarà raccolto da qualche maschio che ci sta seguendo, e quindi vediamo cosa il di Preperi Sociale riuscirà a portare. Intanto, complimenti perché per la tua coerenza e per la tua determinazione nel perseguire un obiettivo chiaro e limpido. Rosario Muniz, ancora complimenti. Andrea Di Pre qui per voi, per raccontare, per descrivere, perché ricordate che il cielo stellato è sopra di me, la legge morale dentro Di Pre. Grande Rosario Muniz e a presto. Ciao.